Codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo. La diagnosi però non è riferita a nessun paziente ricoverato, ma all'attuale condizione di lavoro del reparto. I numeri sono impietosi e danno il senso della difficoltà a soddisfare le richieste dell'utenza. A fronte degli otto medici previsti dalla pianta organica ne operano sette, di cui uno con limitazioni funzionarie, diciotto gli infermieri in servizio, di cui tre con limitazioni, due al lavoro solo per dieci giorni e uno che gode di permessi dovuti al ruolo politico rivestito. Durante i turni notturni montano solo due infermieri, scarsissimi gli ausiliari in servizio, uno con integrazione di turno. Numeri che fotografano una situazione di disagio che comporta un ritardo nelle cure da prestare all'utenza con la movimentazione, e cioè il trasferimento di un paziente dal pronto soccorso al reparto, spesso espletata da medici e infermieri con conseguente aumento di rischio clinico per lo sguarnimento del pronto soccorso. Problema che è stato aggravato dal recente, inspiegabile trasferimento di due unità al San Giovanni di Dio di Agrigento. Tra i pazienti c'è chi è rimasto ricoverato anche per quattro giorni in astanteria. Difficilmente questo andazio potrà cambiare in vista dell'ormai prossima stagione estiva. I turni di lavoro per il personale in servizio e l'unità operativa della struttura sanitaria di Contrada Cannavecchia saranno piuttosto destinati ad appesantirsi. L'aumento della popolazione previsto soprattutto nei prossimi due mesi alzerà infatti l'asticella del bisogno di assistenza medica. Il pronto soccorso del nostro comio licatese serve a un'utenza che comprende oltre allicata anche Palma di Montechiaro, senza contare i turisti. Chi alloggia al Serenuso o al Sicania, le due principali strutture ricettive presenti sul territorio, in caso di malore si rivolge infatti alle cure dell'ospedale licatese. Da qui la preoccupazione e il grido d'allarme lanciato con insistenza dai sindacati ma anche dallo stesso personale medico e infermieristico. Ad interessarsi del problema è anche la politica. Venerdì è in programma una nuova commissione consigliare sanità con il presidente Angelo Bonfissuto che ha invitato anche il vice sindaco e l'assessore al ramo ad essere presenti. Sono stati invitati anche il primario del reparto Carmelo Castiglione e il direttore sanitario Angelo Trigone. Grazie a tutti.